Vai, 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 vai Ok, bello, come... Sì, sì, sì Ready, go! Let's go, Lore! It's really strong Oh, yeah E' la tecnica Siamo una beast italiana, raga, sta spaccando tutto Lorenzo porta un'ora a YouTube Italia All right, guys, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi siamo alla B1 Gym E' praticamente il mio ultimo giorno qui E' purtroppo il mio malincuore Dovrò lasciare questa palestra e tornare in Italia Quindi il Natale e anche il Capurano non lo passerò qua Quindi mi spiace, Lore, se ti abbandono Ma grazie ancora per tutto E oggi è l'ultimo giorno in B1 Gym E abbiamo incontrato Larry Wills per la seconda volta Vediamo se oggi effettivamente riusciremo a fare qualcosa con lui La prima volta proprio l'abbiamo lasciato scappare Sì, perché noi eravamo proprio spaventati Ma adesso proprio ce ne sbacchiamo Andiamo lì e diciamo Larry, vuoi farti una foto con noi? Vuoi fare una wrestling con me? Questo è proprio backstage Comunque non so se ve l'ho detto No, non ve l'ho detto Abbiamo stretto un sacco di amicizia Con il videomaker di Larry Wills Cioè proprio ha incominciato a seguirci su Instagram Abbiamo fatto un battle con lui Sì, l'avete già visto in un video Ha detto che comunque io e Lore siamo molto forti a fare braccio di ferro In sostanza ci ha invitato Oggi a quest'ora però effettivamente non sapevamo se ci sarebbe stato Larry Wills E niente, in sostanza adesso vedremo cosa succederà Perché io ho fatto braccio di ferro con lui tre giorni fa E ho ancora i doms solo per aver fatto braccio di ferro Non ho manco fatto bicipiti Quindi vediamo oggi come andrà Allora ragazzi, siamo qui con Larry Wills Cosa fai oggi? Adesso faccio un'arm wrestling Allora, hai praticato un wrestling per fare un match O hai solo trattato per praticare le tue skill? Sì, adesso sto cercando di preparare Forse il mio primo arm wrestling tournament Che sarebbe in USA Ok Sono ancora amaturi, ho avuto fare il mio primo Ma ho fatto arm wrestling circa 6 mesi Sì, e ho davvero piaciuto Quindi hai lasciato un strongman O è solo... Io ancora voglio un strongman Ma al momento non c'è un strongman Competizione che sto cercando di fare Perché stanno spiegando e stanno cancellando Io voglio fare una competizione gigante Ma perché della scala Normalmente hanno più di più di 5-10 mili Nel audience che guardano E ancora più E perché del Covid Non puoi avere così molte persone In un espaço Quindi ho aspettato Che la regolazione del Covid Sì, quindi posso iniziare a preparare Quindi pensi che Arnold Classic Non succederebbe? Non penso così Non penso così Non penso così Non penso così Non penso che le raggnie sono stesse Ma iniziare i lentamente Non penso che non sia pronto Ok Buona luce Per il vostro primo amaturi Arm wrestling Potremmo provare un testo con te? Certo? Sì, solo provare. Sto facendo qualche workout di street curl. Scusate, abbiamo vissuto il tuo videomaker. Siamo veramente stupendo. Ok, hai vissuto Adam? Sì. Ok, non lo so. Ha vissuto, io lo vissuto. Ma ha vissuto solo un workout. Non lo so. Ok, non lo so. Sì, non lo so. Sì, non lo so. Ti chiedo, non lo so. Sì, 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 sì. Ah, una domanda. Sì, sì. Sì, sai. Sì, sai. Sì, sai che oggi c'è la pregiudazione dell'Olympia. Ok. Sì, cosa crede che succede? Sì, che Brandon sembra davvero bene, per sinceri. Brandon sembra davvero bene. Sì, per sinceri. Sì, credo che Brandon non viene in prima, viene in seconda. In seconda? Sì, in prima o in seconda. È difficile dire. È difficile dire. È difficile dire. se non lo so, se non lo so, se non lo so, se non lo so. Sì, non lo so. Sì, non lo so. Ma anche, sono molto felice di vedere come Bumstead, Chris Bumstead e Andre... Andre do. Andre competisce anche. Sì, sì. Sì, sì. Sì, ma è in Dubai. Sì, sì. Ora è in California, credo. Sì, non è in Florida. Sì, sì. Sì, è Chris Bumstead. Sì, sì. 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 Brion e Bumstead sono nello e nello, ma penso che Bumstead ha l'immagine overall più che Brion, ma è solo mia opinione. Sì, i capelli, i capelli. Sì, tutto per me è stato così classico su Bumstead. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Allora adesso sta facendo un po' di pratics con le persone. Lui è il videomaker che dobbiamo battere. Di nuovo. Sento il suo videomaker. Hi, man. In sostanza dobbiamo provare a fare un arm wrestling con il videomaker. Poi proveremo a farlo con Larry, come avete sentito. Gli indiani mangiano il curry. Il curry. Ho faccio ogni giorno. Hai fatto una struttura. Sì, è lode. Ah, non. Provole. No, non. No, non. L'aggregare. Sì, è lode. Sì, è lode. Vai 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 vai. Vai vai. ... ... Guarda quello! ... 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 capito la reattività dei nervi è quello infatti infatti bro dicevano infatti la cosa del powerlifting lui se si allenasse perché ha detto che ha detto il suo videomaker che sta allenando per fare poi delle gare amatoriali e poi professionistica e che non è tanto forte nella tenuta quindi adesso lui è più forte nella one time nella spinta però nella tenuta non è fortissimo probabilmente ha riportato le cose del powerlifting anche qui nell'arm wrestling c'è la e non l'endurance che davvero se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi lasciate un like e per favore supportatemi anche su instagram seguitemi su lorenzo coral perché davvero mi sto davvero impegnando a cercare di crescere e di tutto grazie a voi se mi supportate cresco di più grazie è evidentemente nell'arm wrestling non conta solo essere grossi ma conta solo e praticamente la tecnica solo la tecnica può essere grosso quanto vuoi ma alla fine è la tecnica si possiamo provare? si possiamo provare? sicuramente sono un po' fatigua si è davvero forte è davvero forte oh sì andiamo ok Fine. Ok. Stamina, stamina! Let's go! I have endurance now. Is his elbow off? Yes. Elbow on the pad. Ready? Go! Ready? Go! Vai Lore, spaccalo! No, 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 no! Let's go! Let's go! Ah! Senti, abbiamo una beast italiana raga, sta spaccando tutto. Lorenzo porta un'ora a Youtube Italia. And after with Larry. Insegna? Si? Occhio al polso, vai di polso, vai di polso. Non ti aprire, non ti aprire, non ti aprire. Ok, ok. Ok. Laxia? No, no, no! No, no, no! Non ti aprire! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. You see that? Squeeze like this? If your old arm's opening... Ready and go! GOOOO! EHHHH! Wait, wait, wait! I don't wanna do it! Give up... 3, 2, 1... Go! Right away I got your wrist. I'm just gonna bleed you out... Siete qui tutta la giornata Siete qui Siete qui Siete qui Siete qui Siete qui Siete qui Allora ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Io spero che riusciremo a fare altri video come questi davvero sono straemozionato e infatti non so se alla fine partirò e tornerò in Italia perché davvero mi viene quasi da piangere pensare che posso perdere del materiale così e un'opportunità così perché davvero adesso mi viene male mi viene il magone a tornare perché so che qui comunque possono fare un sacco di video e purtroppo adesso nella situazione che siamo in Italia siamo tutti chiusi quindi tornerei e farei solo Natale con i miei e poi dovrei rimanere a casa anche perché dovrei fare Ci vediamo in un prossimo video e stay tuned guys All right guys wrapping up today's session here at Benillo's Gym the best bodybuilding gym in Dubai home of Dubai Arm Wrestling and as I said earlier in the video we have Levon the Georgian Hulk coming tomorrow to Dubai and I think we're all excited to see just how big and strong the Georgian Hulk is and as far as my experience today everything feels great wrap my leg around the table on the peg of the table and going into a hook it's really starting to feel connected I am not keeping up arm wrestling anytime soon definitely want to do this for the long run just much like bodybuilding it's a marathon for me and I'm just really happy to see every month the group getting bigger and bigger so thank you guys for coming and keeping the fire alive and arm wrestling so we will see you guys in the next one which will be featuring the fire